Ciao a tutti e buona domenica, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, alzate la campanella e mettete like i miei contenuti. Ultimo test amichevole prima che inizi il campionato. Vale il discorso per la Juventus, vale il discorso per l'Atletico Madrid, che in tono originario questa sera si sarebbero dovute affrontare a Tel Aviv, ma per ovvie ragioni è stata cancellata questa meta, però invece non è stata cancellata l'amichevole tra Juventus e Atletico che si disputerà oggi alle 18 a porte chiuse alla Continassa. In tanti mi avete chiesto ma perché no all'Allianz Stadium? Perché ragazzi, per organizzare un incontro di questo tipo, per mettere in moto tutta la macchina organizzatrice dalla parte campo, inteso come manto erboso, le persone preposte a fare in modo che poi un incontro vada in scena, sicurezza in generale, insomma queste partite non si possono preparare in 8-9 ore, bisogna farlo con la giusta pianificazione e quindi l'unico modo per dare vita a questa amichevole è aprire i cancelli dello Juventus Training Center, quindi della Continassa, ovviamente a porte chiuse, perché non c'è stato modo essenzialmente per poter magari anche invitare qualche tifoso, perché la Juve qualche allenamento a porte aperte durante la stagione lo fa vedere ai tifosi invitati, però diciamo che non c'erano proprio i tempi tecnici per fare qualcosa di differente, quindi il massimo che si poteva ottenere era portare l'Atletico a Torino e far disputare questo incontro alla Continassa. Non dovrebbe far parte dei convocati, ammesso che poi verrà dilamata una lista, o comunque dei calciatori abili e ruolabili, Juan Quadrado che ha avuto già qualche piccolo problema non atletico ma di altro genere pre-Vilarferosa, infatti non ha giocato in quell'appuntamento in famiglia e anche oggi Quadrado non dovrebbe far parte della squadra che affronterà gli uomini del ciolo Simeone. Nulla di preoccupante, una semplice indisposizione, però comunque diciamo che la lista inizia ad essere folta, tra i lungodegenti, i giocatori che hanno fatto registrare qualche piccolo acciacco qua e là, però nulla di, diciamo, che debba far dormire preoccupato Max Allegri, ma in generale considerando come l'appuntamento di Ferragosto, come l'inizio della stagione da Juventus a livello ufficiale sia ormai dietro l'angolo, c'è bisogno comunque di avere la squadra nella miglior condizione possibile contestualizzando il tutto al fatto che la Juve giocherà il primo match ufficiale il 15 agosto. Auguri! Ci sarà contro Alvaro Morata, in tanti mi state chiedendo se possa esserci ancora margine di dialogo con l'Atletico Madrid, vedremo se emergeranno novità in giornata, perché comunque i dirigenti colcioneros oggi saranno a Torino ovviamente ad accompagnare la squadra, però finora l'Atletico ha tenuto molto, molto duro, non ha aperto il prestito, non ha aperto eventuali scambi, vuole soldi, oltre 30 milioni e a queste condizioni la Juventus ha virato altrove, ha virato altrove e ha deciso di prendere Filip Kostic. Anche ieri ci sono stati contatti, si va avanti ragazzi, si va avanti, la Juve è forte del sì, dell'apprezzamento totale del ragazzo, sente di poter strappare una condizione favorevole, perché comunque se parliamo di Kostic parliamo di un calciatore che va in scadenza il 30 giugno 2023, se parliamo di Kostic parliamo di un giocatore che non ha accettato la proposta del West End, se parliamo di Kostic parliamo di un giocatore che la Juve vuole prendere, perché è pronto fin da subito per sperimentare anche più orizzonti sull'automancino, ma in generale per dare in quella zona del campo un giocatore che possa essere già pronto proprio banalmente per la sfida contro il Sassuolo. Si va avanti, diciamo che la Interact ha come ambizione ottenere 20 milioni, che erano più o meno i soldi che metteva sul piatto lo stesso West End che ne ha proposti 14 più 5 di bonus, la Juve vuole spendere cifre inferiori e fa leva sul fatto, come dicevamo, che in questo momento il maggiore alleato per la buona riuscita dell'operazione sia Kostic stesso, che sta premendo tanto, ha salutato anche i tifosi dopo la disfatta casalinga con il punteggio di 1-6 contro il Bayern Monaco, insomma Kostic la sua decisione l'ha presa, l'ha comunicata, Kostic ha anche già un accordo con la Juve, perché parliamo di un contratto che dovrebbe essere plurinale, per plurinale si intende almeno 3 anni di contratto da 3 milioni netti bonus compresi, poi vedremo quali sono le cifre finali e faremo ulteriormente chiarezza, però Kostic ha detto sì alla Juve e ora attende che l'Aintracht dica sì sempre alla vecchia signora, ma si sta andando in questa direzione, si sta andando in questa direzione, tanti mi avete chiesto anche un giudizio su Kostic, io in tempi non sospetti avevo detto che personalmente Kostic non è quel calciatore che mi fa impazzire, nel senso ritengo che sia molto solido, valido, soprattutto se vuoi giocare con più sistemi, con più moduli, però non è quel giocatore creativo che mi fa impazzire, ma ne comprendo perfettamente la logica considerando come in quella zona del campo si debba aspettare con i tempi giusti il rientro di Federico Chiesa e come poi si debbano anche sfruttare delle occasioni e Kostic a determinate cifre, hanno una scadenza, è un'occasione di tutti gli effetti, poi parliamo del miglior giocatore della passata edizione dell'Europa League, di un giocatore che quindi con l'Aintracht ha fatto molto bene, è giunto nel massimo della maturità professionale, perché Kostic è il 92, quindi ha 29 anni compiuti, è il grande salto ora o mai più, mi piace molto il fatto che questo ragazzo abbia rischiato, no? Anche di rimanere col cerino in mano, perché la Juve un mesetto fa, sul suo conto, era molto calda, poi, anzi un mesetto e mezzo fa, non l'ha mai ritenuto, mettiamola così, perché è molto calda, è un concetto sbagliato, la Juve lo ha sempre tenuto in una lista, non l'ha mai tenuto fino a inizio agosto in termini di priorità al top, poi però c'è stata quella famosa riunione, l'ultima tra Max Allegri e i dirigenti, c'è stato anche l'infortunio di Pogba e da lì si è deciso di virare sul suo conto, e comunque Kostic, finché ha avuto quella fiammetta accesa, quella speranzella di poter andare alla Juve, ha preso tempo con le altre, con il West Ham, con l'Aintracht, perché gli ha messo sul piatto, anche un rinnovo, mi dicono, importantissimo, con cifre evidentemente superiori anche di quelle che percepirebbe a Torino, quindi Kostic, già il fatto che abbia voluto la Juventus con così tanta vemenza, lo può rendere solo ed esclusivamente simpatico, poi, come sempre, il campo a decretare la bontà o meno di un affare. Saranno anche giorni importanti per il rinnovo Nicolo Fagioli, ne abbiamo parlato ieri, ma bisogna fissare ulteriormente il quadro, perché credo che si sta andando proprio nei giorni delle firme, cioè non nemmeno dell'accordo, sì, ok, poi ci rivediamo, ma proprio della firma. E credo che sarebbe bello che magari questa firma arrivasse prima o proprio in quei giorni che poi accompagneranno quella che sarà probabilmente la prestazione dall'inizio di Fagioli contro il Sassuolo, perché ad oggi se dovessi scommettere un euro sul centrocampo che affronterà la formazione di Dionisi, direi Locatelli in cabbira di regia, alla sua destra Zaccaria e alla sua sinistra Fagioli. Poi vediamo cosa farà anche oggi Allegri contro Madrid, test probante, test importante contro una squadra forte, contro una squadra ben attrezzata per cercare di complicare la vita sia del Barca sia dei campioni di Spagna del Real Madrid, anche testa una bella Champions, quindi occhi ben aperti, occhi ben aperti, perché ragazzi oggi non si possono fare brutte figure. Un caro abbraccio e vi do appuntamento al triplice fischio dalla Continassa per analizzare con voi quello che sarà stato l'esito della sfida tra Juve e Telecom Madrid.